Buongiorno e un benvenuto a tutti i partecipanti di questo evento formativo. Sono Piera Tonelli, Revisore dei Conti presso l'Orni dei Medici e Odontoiatri di Milano e oggi porto i saluti del Presidente Dottor Roberto Carlo Rossi di tutto il Consiglio. Consiglio che ha come prerogativa e ambizione di proporre per i propri iscritti eventi formativi così qualificanti come quello che affronteremo oggi. Il tema del nostro corso sarà la patologia infiammatoria del polmone che per la sua diagnosi e cura prevede adesso come non mai un approccio multidisciplinare che ci verrà illustrato dai nostri relatori. Il tumore polmonare rappresenta oggi una delle cause principali di morte per tumore nei paesi occidentali ed è proprio la gestione multidisciplinare che vede l'avvicendarsi di pneumologi, chirurghi toraci, di oncologi nelle diverse fasi di diagnosi e terapia e che ha fatto sì che numerosi cambiamenti nel percorso diagnostico di questa malattia per i quali si è assistito negli ultimi anni a un miglioramento della sua prognosi. Prima di passare la parola ai nostri relatori qualche informazione tecnica sulla gestione di questo webinar. Durante tutta la durata delle relazioni e dell'evento potrete porre delle domande cliccando il tasto in basso sulla destra domande e risposte e le risposte verranno affrontate nella discussione finale dopo le relazioni. Mentre per quanto riguarda la compilazione del questionario di approfondimento e di valutazione si potrà accedere avendo praticamente frequentato almeno il 90% del monte ore dell'evento e potrà essere compilato il questionario dalle ore 17 di oggi, il sabato 6 maggio 2023 fino alle ore 23.55 di martedì 9 maggio. Si ricorda anche di compilare il questionario della quantità percepita. I nostri relatori di oggi provengono da una struttura ospedaliera quale il Polichinico Cragaranda di Milano, ospedale maggiore che rappresenta il primo centro lombardo nell'ambito dei trapianti del polmone. Ho il piacere di presentare adesso il responsabile scientifico di questo evento, il professor Lorenzo Rosso, dirigente medico e responsabile del servizio di endoscopia delle vie aeree presso l'unità operativa di chirurgia toracica dei trapianti di polmone di Milano, professore associato di chirurgia toracica presso l'Università di Milano. A lei la parola professore. Buongiorno, la ringrazio per l'introduzione. Un buongiorno a tutti i partecipanti a questo webinar che è il primo di due eventi che abbiamo deciso di dedicare alla patologia polmonare, alla patologia polmonare infiammatoria e alla patologia anche tumorale in un secondo evento. Sicuramente la patologia polmonare sia funzionale che tumorale è di particolare interesse in una città come Milano. Quindi abbiamo deciso di dedicare questi due eventi formativi per dare una panoramica up to date di tutte le patologie polmonari più frequenti e quello che è il percorso, diciamo, diagnostico e i possibili trattamenti terapeutici, come vengono affrontati presso la nostra struttura in un setting ovviamente multidisciplinare e con le più avanzate tecniche di trattamento medico e anche chirurgico. Quindi introduco il nostro moderatore che è il professor Mario Nosotti che è ordinario di chirurgia toracica presso l'Università degli Studi di Milano e direttore dell'Unità Operativa Complessa di Chirurgia Toracica e dei Trapianti di Polmone che modererà questo primo evento formativo. Grazie Lorenzo per l'introduzione. Do il benvenuto a tutti i colleghi che vogliono sentirci, seguirci questa mattina per un aggiornamento sulle patologie infiammatorie del polmone. Come sapete certamente le patologie neoplastiche sono estremamente numerose, estremamente preoccupanti, il tumore del polmone è la prima causa di morte per tumore sia nell'uomo che nella donna nel mondo occidentale, per cui è un problema estremamente grosso. Però le patologie infiammatorie sono altrettanto rilevanti sotto il profilo medico, sotto il peso che hanno nell'assistenza da parte del nostro sistema sanitario, per il numero di pazienti che vengono costantemente ricoverati presso i nostri reparti, quindi l'impatto che ha sul sistema ospedaliero, sulla spesa che ha per quanto concerne il sistema sanitario per i farmaci, insomma è un problema particolarmente rilevante. Per cui affronteremo oggi un po' questo discorso sia dal punto di vista più strettamente internistico con due delle nostre pneumologhe che lavorano presso l'ospedale maggiore e con due aspetti un pochino più selettivi, chirurgici, con due chirurghi che lavorano sempre con me al Polifenico di Milano. La prima relazione è della dottoressa Silvia Vanni, che ci parlerà dell'inquinamento atmosferico e dei fattori di rischio per le pneumopatie. Purtroppo l'inquinamento atmosferico è una cosa che per noi, noi diamo per scontata, è una cosa che pensiamo di subire in modo inevitabile, in realtà con tutti i movimenti che ci sono stati, con l'idea di chiusure al traffico, con l'avanzamento tecnologico, con queste auto elettriche, insomma molto si sta facendo. Però obiettivamente l'area che respiriamo, adesso sentiamo la dottoressa Vanni che ci spiegherà bene, ci porterà ben dentro questo problema, l'area che respiriamo non è esattamente buona. Tralasciamo il problema fumo, che è un problema che conosciamo benissimo e che non ha bisogno di presentazioni e di parole, ma proprio l'aria che respiriamo e i componenti che contengono per i nostri polmoni diciamo non sono estremamente buoni. Quindi Silvia sei pronta con la tua presentazione, ti lascio la parola e ci sentiamo poi alla fine della tua presentazione. Ricordo a tutti i colleghi di, durante le presentazioni, possono avanzare dei dubbi, delle domande, delle considerazioni, in modo che alla fine ci si possa discutere insieme ampiamente. Grazie e prego Silvia. Va bene, grazie a tutti, grazie professore della gentile presentazione, grazie anche e soprattutto dell'invito. Sicuramente, come ha detto lei, le patologie polmonari stanno veramente prendendo, hanno un grande impatto comunque ovviamente sociale ed economico, per cui l'importanza anche dell'interesse che tutti noi abbiamo, non soltanto come clinici, ma anche come persone che frequentano il mondo, è proprio legato a questi vari aspetti. La patologia polmonare è sicuramente una patologia di grande impatto, sia sociale che economico. Si è visto come questa patologia abbia in realtà un grande interesse e venga a interessare tutte le fasce comunque di età, a partire proprio dall'età pediatrica. In particolare, vediamo come assistiamo comunque al fatto che nell'ultimo trentennio, dal 2009 ad oggi, le patologie polmonari siano comunque di grande impatto e soprattutto abbiano subito un significativo incremento nell'ultimo trentennio. al 2017-2019, i dati sono molto simili, la popolazione comunque interessata alla patologia polmonare è circa mezzo milione e vediamo come queste patologie hanno subito un significativo incremento nell'ultimo trentennio, con un incremento pari a circa il 40%. Di queste sicuramente nelle patologie polmonari la fa la padrona, come è ben noto, la BPCO, ma non è ovviamente l'unica patologia tra le patologie comunque croniche che viene a interessare comunque i soggetti. Vediamo che nei bambini la patologia più rilevante è quella asmatica, ma vediamo anche comunque soprattutto nei bambini fino ai 9 anni e soprattutto di sesso maschile, dopo i 9 anni la patologia asmatica diventa più rilevante nel sesso femminile e vediamo invece nell'età adulta le patologie più rilevante è proprio la BPCO. Meno impattante come i numeri, assicurano sicuramente le patologie intestiziali, le sercoidosi e le pneumocognosi, anche se ovviamente nel corso comunque dell'ultima comunque decade queste patologie hanno subito comunque un interesse da parte di tutti, anche grazie al fatto che c'è, che è stata significativamente migliorata la sopravvivenza dei soggetti affetti da queste pneumopatie, in quanto grazie all'introduzione di farmaci antifibrosanti che hanno sovvertito molto la situazione con un miglioramento significativo della prognosi e della qualità comunque di vita di queste patologie. Vediamo come la BPCO è sicuramente appunto la patologia più rilevante che viene a colpire entrambi i sesti e vediamo come rappresenta circa il 55% comunque delle patologie polmonari croniche e appunto hanno una maggiore incidenza nell'età adulta. Vediamo come l'insorgenza comunque delle patologie polmonari sia croniche, quindi che siano asma, che sia BPCO, che siano comunque le intestiziopatie, sono ovviamente molto correlate comunque con il fumo, sia nell'esposizione comunque diretta che nell'esposizione comunque indiretta. Però vediamo come non è soltanto il fumo un elemento importante nell'insorgenza di queste patologie, ma entrano in gioco anche comunque gli inquinanti atmosferici. Inquinanti atmosferici considerando gli inquinanti inalati in ambito esterno, ma anche gli inquinanti in ambito domestico, che sembra qualcosa un po' di banale e per noi che viviamo in paesi comunque ricchi e molto sviluppati, sembra quasi inverosimili. In realtà sono ancora tuttora molto molto presenti in quell'inquinamento atmosferico in ambito domestico dovuto alla combustione comunque dei combustibili fossili e vediamo come questo sia più rilevante nei paesi comunque del sud dell'Asia, nell'Africa sub-sarariana. Anche se in realtà nel corso proprio degli ultimi anni proprio a seguito della pandemia che ha colpito tutto il mondo c'è stato, si è dimostrato invece un significativo incremento comunque di questo dell'inquinamento legato proprio all'esposizione ambientale proprio anche in paesi inaspettati, anche nei paesi più sviluppati pur essendo questa comunque ovviamente rimane sempre comunque con una bassa incidenza. Vediamo comunque quindi che la revisione di uno studio che è stato fatto comunque che ha preso in considerazione il trentennio dal 2009, dal 1990 al 2019, vediamo che è stato confermato il fatto che sicuramente il fattore di rischio principale per l'insorgenza delle pneumopatie al fumo, ma è stato proprio evidenziato in maniera significativa come l'inquinamento atmosferico abbia avuto un ruolo importante nell'insorgenza comunque di tutte le pneumopatie, soprattutto nelle regioni, nelle aree comunque geografiche con più alto comunque e con più basso reddito. E vediamo come è impattante, lo studio è anche finalizzato a vedere quanto è impattante, non soltanto le pneumopatie sono impattanti non soltanto in termini di mortalità, ma anche in termini di anni di vita comunque persi, di invalidità e di ridotta quindi aspettativa di vita. Quindi vediamo come anche in questo studio quindi è stato confermato come il fumo nel corso comunque dell'ultimo trentennio abbia subito un significativo decremento di incidenza comunque di rischio di morte mentre il proprio l'inquinamento atmosferico abbia invece giocato un ruolo molto più rilevante soprattutto nei paesi meno sviluppati o con uno sviluppo medio-basso. Vediamo quindi come anche qui la valutazione comunque dei vari fattori di rischio che incidono l'insorgenza delle pneumopatie è suddiviso per fascia comunque per livello comunque area geografica dalla più ricca alla meno ricca. Si è visto come sicuramente nelle aree comunque geografiche più ricche il fumo vince ancora, la fa da padrona nell'insorgenza comunque delle pneumopatie mentre nelle aree invece meno sviluppate l'inquinamento atmosferico risulta essere più significativo. Vediamo quindi forse per questo che c'è anche un'attenzione da parte comunque dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e anche un'attenzione da parte comunque di tutti i paesi comunque del mondo proprio ad avere una maggiore attenzione proprio verso l'inquinamento atmosferico e tutti i giorni noi lo vediamo proprio al telegiornale notizie proprio che riguardano proprio questi aspetti. Vediamo però come le patologie polmonari di cui la fa la padrona sicuramente la VPCO sono collegate comunque a molteplici fattori abbiamo detto che il fumo rimane sicuramente l'elemento determinante però ci sono vari aspetti e vari che entrano in gioco nell'insorgenza delle pneumopatie in particolare proprio della VPCO. Non soltanto appunto il fumo ma ci sono anche fattori comunque genetici che predispongono all'insorgenza della patologia. Fattori genetici e più rappresentativo a tutti noto è il deficit di alfa 1 antitripsina. Questo sicuramente è impattante ma non solo questo, infatti ci sono fattori genetici predisponenti anche l'abitudine tabagica. Vediamo inoltre come l'insorgenza comunque della VPCO possa essere comunque anche anche correlata comunque a dei fattori comunque degli eventi durante comunque la vita anche durante la vita intrauterina. Addirittura si è visto come ci sono fattori comunque esterni che vengono a modificare comunque, vengono a modificare come ad esempio le levate inondazioni o le levate le piogge torrenziali possono comunque avere anche un impatto su un'insorgenza di una prematurità comunque dei nascituri e questo possa condizionare automaticamente anche la prematurità, un maggior rischio quindi di infezione e quindi uno possa quindi condurre ad un aumentato comunque rischio di evoluzione verso un rimodellamento comunque delle vie aeree quindi l'insorgenza in età più adulta anche della VPCO. Poi vediamo che comunque ci sono altri comunque anche altri elementi che possono quindi indurre quindi le infezioni stesse che possono quindi condurre all'insorgenza di VPCO, tra le principali comunque infezioni sicuramente la fada padrona, la polmonite, la tubercolosi ma anche comunque l'HIV hanno anche un ruolo importante nell'alterare la struttura comunque parenchimale. Il fumo è già appunto a tutti noto ormai da tantissimi oltre 30 anni, 40 anni quanto sia importante e si è dimostrato come in realtà la patologia comunque della VPCO appunto ormai sia proprio presente anche nei soggetti non fumatori e questo è proprio correlato proprio all'esposizione comunque ad inquinanti anche in ambito comunque domestico e l'inquinamento proprio atmosferico che giocano quindi un ruolo importante. Vediamo come a prescindere comunque dalle varie comunque esposizioni la sintomatologia comunque dei pazienti affetti da broncopneumopatia cronica ostruttiva è molto variabile sicuramente caratterizzata dai sintomi che tutti noi conosciamo quindi con la tosse, con l'espettorazione, con la dispnea e funzionalmente si evidenzia con una riduzione comunque dei valori comunque di funzionalità respiratoria in particolare proprio del rapporto FEW1 su FWC come è noto a tutti e si può evidenziare poi a livello comunque radiologico le note comunque alterazioni comunque con il tratti comunque di enfisema o comunque con degli spessimenti comunque delle pareti bronchiali che possono essere ben evidenziati comunque alle immagini TAC. Per cui vediamo fondamentalmente che tutte le fasce di età sono interessate da preomopatia e ci sono vari fattori di rischio che vengono ad insorgere a seconda proprio della fascia di età. Vediamo come già appunto prima del concepimento l'abitudine tabagica della madre e fattori comunque epigenetici possano quindi indurre un aumentato rischio ad esempio di prematurità. Mentre vediamo come durante l'epoca gestazionale, l'età gestazionale, vediamo come questo è, ci sono stati studi molto recenti dove hanno proprio evidenziato proprio come l'inquinamento lo stress comunque materno, come i cambiamenti climatici abbiano un ruolo molto importante. Si è visto infatti come ad esempio durante l'uragano Catrina o comunque durante le inondazioni della Tailandia si è evidenziato proprio un aumento dei nati prematuri e un aumento anche non soltanto della prematurità ma anche con un basso peso alla nascita. Questi elementi che potrebbero essere non significativi in realtà portano invece a un aumentato quindi rischio di danno quindi polmonare cronico. Vediamo poi anche nei primi anni di anche nei primi comunque anni di vita vediamo come possono possono comunque il fumo e tutti i fattori ambientali siano un fattore di rischio per l'insorgenza proprio delle patologie pulmonare. Sicuramente nell'età adulta l'inquinamento e il fumo sono più significative e possono appunto, infatti al punto che la maggiore evidenza delle premopatie croniche nell'uomo sono proprio nell'età più adulta. Vediamo, tornando proprio a questo aspetto dell'importanza comunque dell'inquinamento e dei fattori comunque esterni durante la vita gestazionale è proprio stato visto che appunto non soltanto le alte temperature o gli eventi atmosferici estremi ma anche comunque la malnutrizione della madre e lo stress materno e l'inquinamento possono quindi indurre tramite dei meccanismi non noti a uno stress ossidativo a una disfunzione comunque placentale, ad infiammazione che conduce proprio a nuova prematurità al basso peso e anche a un basso peso durante le varie epoche della gestazione l'attemperamento di temperatura e dell'inquinamento atmosferico sono in grado non soltanto di indurre prematurità e basso peso alla nascita ma è stato visto come siano in grado di indurre un incremento anche di asma e di wheezing durante comunque i primi anni dell'infanzia soprattutto intorno verso i cinque anni e vediamo come a seguito proprio dell'inalazione comunque di inquinanti atmosferici si abbia un aumento comunque dei mediatori di TL per 2 e quindi c'è un aumento anche dell'incidenza comunque delle atropie delle dermatiti comunque delle remiti comunque su base allergica e quindi tutto questo mostra quindi un impatto quindi ovviamente tutto questo spiega come mai oggi siamo qua a discutere di questi aspetti e quanto questi aspetti dell'inquinamento sia in termini di fumo che di inquinamento atmosferico condizionino veramente tutta la nostra vita fin da partire proprio dalla fase proprio fetale vediamo quindi come anche non soltanto durante la vita fetale noi siamo condizionati dall'inquinamento atmosferico ma si vince anche come nell'età adulta questo inquinamento sia significativo in questo studio che è uscito proprio recentemente è stato pubblicato nel marzo del 23 è stato uno studio americano condotto su una popolazione comunque di oltre 65 anni americani, maschi e neri appartenenti a varie classi sociali quindi alta classe sociale, bassa classe sociale si è visto come proprio l'inquinamento da particolato da PM2 possa impattare sul rischio di mortalità in particolare si è proprio visto come il rischio di mortalità sia più basso nei soggetti che presentano una esposizione prolungata a PM2,5 inferiore nei soggetti che sono residenti che appartengono a una classe economica inferiore sia questi bianchi che neri e nei soggetti di razza nera più facoltosi mentre i soggetti invece di razza bianca più facoltosi non subiscono in realtà nessuna riduzione del rischio a più basse invece concentrazioni di PM2,5 in parte questo lo possiamo giustificare non tanto legato alla minore susceptibilità all'infezione, al rischio di mortalità non sia tanto legato proprio all'etnia ma quanto proprio più che altro alla possibilità di avere a disposizione comunque ovviamente c'è una minore disponibilità economica ovviamente più basse concentrazioni comunque di PM2,5 induce un minor rischio comunque di insorgenza di patologie quindi croniche quindi soggetti più deboli non possono afferire alle strutture sanitarie e hanno un adeguato comunque trattamento per cui vediamo come in particolare vediamo comunque come l'inquinamento atmosferico non impatta soltanto sull'insorgenza delle patologie comunque più comuni come la BPCO o l'insorgenza comunque dell'asma che è la seconda comunque patologia comunque polmonare più diffusa del mondo ma impatta anche sul rischio di insorgenza delle intestiziopatie le intestiziopatie sono una patologia molto complessa che ha subito un grande interesse da parte di tutti nel corso appunto degli ultimi dieci anni come ho detto prima grazie proprio all'introduzione di farmaci antifibusanti aumentata anche la sensibilità comunque di tanti clinici verso il riscontro di queste verso la maggiore attenzione verso la ricerca di queste patologie che erano considerate rare ma quanto propriamente rare non sono sicuramente l'incremento del riscontro delle pneumopatie è legato anche all'invecchiamento della popolazione perché ovviamente si tratta di patologie dove si evidenza una marcata fibrosi del tessuto polmonare per cui per alcuni aspetti questo è comunque qualcosa in parte di fisiologico però vediamo l'incremento è anche legato all'invecchiamento della popolazione ma anche legato a proprio anche all'incremento della popolazione stessa nel mondo però si è visto come in realtà anche l'inquinamento qui anche in questo caso abbia comunque un ruolo importante nell'insorgenza della malattia in particolare in questo studio è stato proprio evidenziato è stata fatta una valutazione della concentrazione comunque dei vari comunque agenti inalanti inquinanti che possono essere presenti comunque nell'aria ma è stata fatta una valutazione a seguito di un'esposizione comunque una valutazione esposizione comunque prolungata all'inalante perché precedentemente a questo studio era già stato messo in evidenza che l'esposizione ad inalanti pericolosi quali appunto l'ossido di azoto l'ossido di azoto o i particolati erano in grado di esacerbare una raccolizzazione di pneumopatia intestiziale di fibrosi polmonare però questo invece questo studio ha valutato proprio l'esposizione prolungata quindi quello a cui fondamentalmente siamo più soggetti tutti noi che viviamo nel mondo quindi l'esposizione più prolungata alle varie sostanze e ha consentito quindi di evidenziare proprio nel dettaglio che prima di tutto i soggetti più colpiti comunque da pneumopatia intestiziale erano soggetti comunque sicuramente fumatori pazienti comunque con un BMI più elevato e soggetti che comunque presentavano comunque una qualità comunque di una un pessimo comunque abitudini alimentari e pessime comunque abitudini di attività comunque sportive per cui vediamo che però è stato proprio valutato all'interno comunque di questo di questo pool di pazienti che sono stati punti valutati è stato valutato come in realtà il biossido comunque di azoto l'ossido di azoto e il particolato PM2E5 abbiano inducano un aumentato quindi il rischio di sviluppo comunque della malattia che estrapolato dal strapolato dal rischio legato al BMI e all'abitudine tabagica vediamo come il rischio per il biossido di azoto era un incremento dell'1.1 dell'ossido di azoto dell'1.07 e del e del PM2E5 dell'1.09 vediamo quindi che questi dati poi questi dati vediamo come sono ancora più significativi quindi che l'esposizione comunque a questi che l'esposizione a questi inalanti vediamo come risulta ancora più significativo nei soggetti che presentano un aumentato rischio genetico perché sappiamo che comunque parte delle intestizopatie presentano un carattere di ereditarietà anche se non è stato ben identificato comunque il genere responsabile si è visto che ci sono comunque, c'è una suscettibilità comunque familiare ha proprio ad un, ci hanno aumentato il rischio proprio legato comunque a una correlazione genetica. Vediamo però che l'inquinamento atmosferico non condiziona soltanto le patologie comunque croniche ma condiziona anche, l'abbiamo visto proprio adesso nel corso comunque degli ultimi tre anni ha condizionato anche la pandemia comunque da infezione da SARS-CoV-2 infatti vediamo come in questo studio che è stato pubblicato anche questo recentemente fatto comunque nell'area comunque di master, cioè su oltre 600.000 pazienti si è visto come l'esposizione prolungata a innalanti in particolare a PM2-5 a biossido di azoto e a benzene aumentava il rischio di infezione da SARS-CoV-2 e vediamo in particolare come la classe più colpita rimaneva quella della fascia di età tra i 40 e i 59 anni con un indice di mortalità molto più alto e molto più alto era soprattutto legato anche ai pazienti che presentavano comunque livelli che presentavano delle copatologie. Sono stati infatti proprio analizzati le varie copatologie e anche in questo caso la BPCO si è vista essere la comorbidità che era più vulnerabile al seguito dell'esposizione prolungata dai vari particolati dal biossido di azoto era la patologia, quindi la comorbidità che era più soggetta comunque a più alto l'indice comunque di mortalità. Tutto questo quindi tutti i vari quindi per concludere quindi tutti i vari sono tanti quindi gli elementi che sicuramente agiscono quindi nell'insorgenza delle pneumopatie e quindi a dispetto delle più noto sicuramente del noto abitudine tabagica che ha condizionato e che condiziona ancora l'insorgenza di tutte le pneumopatie sicuramente però una grande attenzione deve essere posta proprio all'inquinamento atmosferico che condiziona la nostra vita, la vita di tutti e la vita comunque anche dei nostri malati. Vi ringrazio dell'attenzione. Ringrazio dottoressa Ranni per questa relazione certamente non semplice considerando il fatto che le patologie da inquinamento del polmone sono un argomento vastissimo quindi ha cercato di riassumere un po' con un pochino di sintesi tutti gli argomenti credo che suscitino molto interesse, molte curiosità anche spesso anche molto personali perché è un argomento che tocca tutti noi non solo come medici ma anche come cittadini di una città, di una regione altamente industrializzata come questa è la Lombardia però insomma veramente ha aperto gli occhi su molti punti cioè non è solo l'astensione del fumo che può salvarci da armative polmonari ma è un po' tutto il nostro comportamento come cittadini che può impattare sulla salute nostra e sulla salute dei nostri assistiti. Quindi grazie mille Silvia, vorrei passare adesso la parola alla dottoressa Letizia Corinna Morlacchi che è una delle pneumologhe del nostro ospedale, del Policlinico è una professionista molto attiva soprattutto nel trattamento, nella cura nel seguire i pazienti con insufficenze respiratorie con pazienti che noi poi abbiamo tra il pianto polmonare insomma è una professionista indispensabile al nostro team recentemente ricercatrice universitaria anche e ci parlerà dell'infiammazione cronica del polmone, dell'asma, delle intestinopatie, nella BPCO quindi ovviamente c'è il problema della noccia patogena e dell'inquinamento che noi abbiamo però questo non è sufficiente per sviluppare la malattia è necessario capire anche quali sono i fattori endogeni e quali sono diciamo i fattori legati al meccanismo biologico che dettaglino poi la malattia. Quindi Letizia se sei pronta ti do la parola. Grazie prof per la presentazione, è sempre molto generoso. Io ci provo a presentare l'infiammazione nelle malattie respiratorie Allora Ok Spero che vediate tutti Allora io cercherò di essere abbastanza interessante un argomento difficile un argomento che ho organizzato cercando di stimolare l'attenzione di chi ha scelto di ascoltarci stamattina con qualche dato sui meccanismi infiammatori alla base delle malattie più frequenti nell'ambito preumologico e come si differenziano. Allora inizierei col dire una cosa nel senso che effettivamente l'infiammazione è una parola che il medico utilizza molto spesso il problema è che questo può generare delle domande tra bocchetto da parte del paziente perché il paziente poi dice scusi dottore ma che cos'è l'infiammazione e il paziente si aspetta anche che noi gli diamo una risposta che lui può comprendere cioè una risposta che ha letto su Wikipedia quindi ci sta mettendo alla prova oppure su My Personal Trainer e quindi noi dobbiamo anche essere pronti a dare una risposta che il paziente poi può verificare effettivamente sia Wikipedia che My Personal Trainer che sono due siti molto frequentati anche dall'utenza media danno delle risposte che non sono tanto diverse da quelle che poi troveremmo in un libro perché effettivamente l'infiammazione è il meccanismo di difesa naturale del corpo per immuovere tutti gli stimoli dannosi che possono essere agenti patogeni, irritanti ma anche cellule danneggiate e in questo modo poi avviare il processo di guarigione del tessuto. L'infiammazione può essere classificata come acuta oppure cronica l'infiammazione acuta è sicuramente un processo benefico che aiuta a immobilizzare la regione che è lesa dal danno e consente al resto del sistema immunitario di mobilitarsi per guarire proprio la regione colpita. Dall'altro lato l'infiammazione cronica è un problema perché spesso si trasforma in un danno al tessuto più che a una soluzione al danno perché i tessuti che vengono a essere infiammati cronicamente tipicamente procedono a richiamare delle cellule immunitarie dal flusso sanguigno per amplificare la risposta infiammatoria. Questa infiammazione cronica può distruggere il tessuto anche intorno il tessuto quello che è ancora sano proprio perché il tentativo di avviare il processo di guarigione è mal indirizzato. I meccanismi infiammatori in generale impiegano i cosiddetti PRR di cui parleremo anche più tardi in questa presentazione. PRR sono i recettori per il riconoscimento di un pattern perché ci sono diversi pattern morecorari espressi da patogeni invasori. Questi recettori possono trovarsi sulla superficie della membrana possono essere i toll-right receptor oppure i recettori della lecitina di tipo C oppure potremmo trovarli anche all'interno del citoplasma possono essere i nod-like oppure i rig-i-like successivamente inizia il processo di risoluzione che coinvolge i fenomeni apoptotici ma anche la successiva eliminazione delle cellule infiammatorie attivate. Quindi inizia il processo di riparazione dei tessuti nel tentativo di recuperare il danno tessutale. Questa è un'immagine che mi è piaciuta molto che ho trovato su un giornale che è dedicato proprio alla ricerca dei meccanismi infiammatori. Come vedete va a descrivere in generale i meccanismi infiammatori nelle patologie delle vie aeree. L'infiammazione a carico delle vie aere è solitamente causata da agenti patogeni o dall'esposizione come ci ha detto la dottoressa Vanni a sostanze inquinanti, irritanti ma anche a tossine allergeni. I toll-like receptor riconoscono dei modelli molecolari condivisi dai patogeni e in questo modo attivano le cellule infiammatorie e con alcuni fattori che magari abbiamo già incontrato anche in altre patologie come l'NFK-beta fattori di crescita, chemochine, citochine pro-infiammatorie come l'interleuchina 8, fattori come il fattore di necrosi tumorale quindi il TNF alfa, sono tutti degli attori nell'attivare il processo di risoluzione al danno. In particolare l'interleuchina 8 evoca i neutrofili e il TNF alfa aumenta l'espressione delle molecole di adesione delle cellule endoteliali nei capillari polmonari. Molte delle proteine bersaglio-infiammatorie come per esempio le metalloproteinasi che qui non è ben indicata ma ce ne sono anche altre come tutte quelle del gruppo delle ICAM piuttosto che tutto il gruppo delle cicloossigenasi le fosfolipasi sono specificatamente associate all'infiammazione a carico delle vie aeree in risposta a vari stimoli. Questa figura è più una panoramica delle vie generali di segnalazione infiammatoria ed evidenzia il contributo dei mediatori dell'infiammazione nelle malattie delle vie aeree. Ci sono tanti fattori che possono influenzare la risposta infiammatoria come il microambiente tessutale la malattia specifica lo stress l'ambiente circostante i cambiamenti stagionali però in generale è l'interazione tra i neutrofili e le cellule epiteliali che consente la possibilità di comunicazione durante le risposte infiammatorie in cui il microambiente del tessuto ha un'influenza esplicita sulle vie di segnalazione cellulare e attiva le cellule immunitarie verso il tessuto danneggiato. Una cosa che è importante da ricordare che valuteremo poi nel corso di questa presentazione è che a seconda della malattia sono state osservate risposte infiammatorie diverse ma in generale la sovrarregolazione della risposta infiammatoria che si verifica con l'avanzare dell'età è riconosciuta come un fattore importante che alimenta l'infiammazione e così la malattia. Cercherò ora di darvi degli spunti di riflessione sui meccanismi di infiammazione legate alle singole patologie partendo proprio dall'asma. Ora, l'asma è una malattia che nella sua stessa definizione legata alla GINA che è appunto il gruppo di studio di lavoro che definisce le linee guida per la definizione e il trattamento dell'asma l'asma è una malattia infiammatoria cronica una malattia che è caratterizzata una malattia delle vie aeree che è caratterizzata da episodi ricorrenti di dispnea respiro similante tosse e senso di costrizione toracica. Altro dato fondamentale nella definizione dell'asma è l'ostruzione bronchiale che solitamente è reversibile proprio come definizione della patologia asmatica anche in contrasto rispetto alla BPCO. Un altro dato fondamentale anche in rapporto al meccanismo di infiammazione sottostante è l'iperreattività bronchiale e noi sappiamo che a livello delle vie aeree osserveremo un'infiltrazione di cellule infiammatorie ma anche un rilascio di mediatori e rimodellamento strutturale delle stesse vie aeree. È importante definire l'eziologia dell'asma cioè sia essa di natura allergica o non allergica nonché la patogenesi perché questo ha un impatto non solo nel definire l'endotipo dell'asma ma soprattutto per definire poi la terapia per il paziente. Sappiamo che appunto si tratta di una patologia eterogenea come vi dicevo per i diversi aspetti che la caratterizza ma visto l'argomento su cui ci vogliamo focalizzare oggi è bene ricordarsi che l'asma è una patologia eterogenea anche nei termini in cui si può verificare l'infiammazione delle vie aeree. Sappiamo che ci sono dei dati fisiopatologici molto specifici nell'asma quindi abbiamo un'ostruzione delle grandi vie aeree delle piccole vie aeree e anche insufflazione polmonare ma quello che mi interessa di più discutere con voi è l'aspetto proprio della iperreattività bronchiale che è caratterizzata da una esaltata risposta bronchocostrittiva delle vie aeree a stimili non specifici ma anche specifici e questa iperreattività bronchiale è sempre dimostrabile anche nelle fasi diciamo intercritiche e con FEV1 nella norma l'asma scusate l'iperreattività bronchiale può essere indagata con diversi strumenti fisiopatologici in particolare con test diretti come per esempio la metacolina ma anche indiretti e l'iperreattività bronchiale è una delle caratteristiche dell'asma che può modificarsi nel tempo sia in forma spontanea ma anche come effetto della nostra terapia i fattori che contribuiscono alla iperreattività bronchiale sono di diversa natura ci sono fattori persistenti che sono legati in gran parte a delle alterazioni strutturali a carico delle vie aeree quindi per esempio l'inspessimento della membrana subepiteliale l'ipertrofia della muscolatura liscia piuttosto che la deposizione di matrice o anche delle alterazioni vascolari però la cosa più interessante è che i fattori variabili legati all'iperreattività bronchiale sono proprio rappresentati dagli eventi infiammatori che sono associati all'esposizione per esempio a fattori ambientali come allergeni agenti occupazionali piuttosto che a delle infezioni a delle infezioni respiratorie e tutti queste componenti dell'iperreattività bronchiale sono correlati ma interdipendenti ora questa è un'immagine che arriva dal da Nature da Nature Review è un'immagine famosa che viene riportata anche nelle linee guida Gina dell'asma in cui si discute la patogenesi di questa patologia e questa patogenesi dipende da una complessa interazione tra fattori genetici e ambientali come aereolargeni e virus respiratori in particolare nel lume delle vie aeree gli allergeni sono fagocitati e processati dalle cellule dendritiche che esprimono sulla loro superficie i peptidi antigenici e li presentano alle famose T helper cell che in questo caso sono innanzitutto le cellule helper naive che vengono diciamo indicate come T helper 0 la conseguente differenziazione e attivazione di queste cellule AT helper 2 allergene specifiche è responsabile della produzione di interleuchina 4 e interleuchina 13 e queste due interleuchine promuovono la sintesi da parte dei linfociti B di immunoglobuline di tipo E le cellule T helper 2 sono anche in grado di rilasciare interleuchina 5 che induce la maturazione l'attivazione e la sopravvivenza degli osinofili ci sono anche un altro gruppo di linfociti T che contribuisce alla patogenesi dell'asma e questi linfociti sono i linfociti T helper 17 che producono interleuchina 17A e interleuchina 17F queste due interleuchine a loro volta causano il reclutamento e la proliferazione dei neutrofili si possono attivare anche altri linfociti in particolare i linfociti T helper 1 che producono interferon gamma e questa questa attivazione di T helper 1 tendenzialmente avviene in corso di infezioni virali oltre a questo corredo di cellule c'è anche tutto l'aspetto dei mediatori delle citochine e dei fattori di crescita che vengono prodotti da delle cellule infiammatorie che a loro volta inducono la proliferazione e l'attivazione di cellule strutturali delle vie aere come appunto le cellule epiteliali il fibroblasti le cellule muscolari lisce e le cellule endoteliali per quanto riguarda la patogenesi dell'asma come vi dicevo a seconda dell'endotipo noi abbiamo delle risposte infiammatorie molto specifiche in particolare nell'asma eosinofilico di tipo 2 noi riconosciamo un ruolo proprio per i linfociti PL per 2 perché nell'asma atopico che è quello che vedete nella parte sinistra dell'immagine noi vediamo che l'infiammazione eosinofilica dipende dalla differenziazione dell'attivazione dei linfociti TL per 2 da parte delle cellule dendritiche i linfociti TL per 2 secernono interleuchina 5 che è a sua volta responsabile della produzione dell'attivazione e della sopravvivenza degli osinofili mentre le interleuchina 13 e le interleuchina 4 inducono la produzione di IgE a destra invece viene riportata la patogenesi dell'asma non atopico o intrinseco in cui non è coinvolto uno specifico allergene e non dipende dall'attivazione dell'immunità adattativa in questo caso le cellule LC2 producono interleuchina 5 e interleuchina 13 che sono responsabili delle osinofilie e delle alterazioni strutturali che sono alla base dell'iperattività bronchiale le LC2 producono poca interleuchina 4 e quindi non vi è la tipica iperproduzione di immunoglobuline E da parte dei linfociti B un altro aspetto importante è la patogenesi dell'asma non di tipo 2 perché in questo caso ci possono essere anche qui diversi fattori coinvolti che all'interno includono per esempio fattori legati alle infezioni all'immunità TEL per 1 e TEL per 17 alterazioni della muscolatura liscia non associate all'immunità TEL per 2 ma per esempio a fattori genetici oppure allo stress ossidativo nonché l'infiammazione neutrofila questo è un po' un riassunto un pochettino più clinico perché noi adesso abbiamo diviso le diverse risposte infiammatorie a seconda dell'endotipo dell'asma ma in realtà c'è una una diretta poi diversificazione da un punto di vista clinico perché come vedete l'asma di tipo 2 è quella di tipo allergica ma al suo interno ce ne sono diversi tipi poi c'è chi passa tra una tra una tra un fenotipo e un altro e poi abbiamo l'asma non di tipo 2 che è quella appunto associata all'obesità al danno proprio della della muscolatura liscia e anche a tutte le forme di overlap che si verificano nei pazienti che hanno abitudine tabagica anche questo è un aspetto importante perché fa vedere come la la risposta infiammatoria porta poi a un rimodellamento delle vie aeree che si verifica in maniera poi cronica in particolare di nuovo in questa figura sono è sottolineata l'importanza delle cellule T helper di tipo 2 che sono come dire stimolate da citochine come L4 L5 L13 che conducono a un'infiammazione fortemente osinofilica e alla produzione di immunoglobuline di tipo E le LC2 che vi ho citato prima che sono le cellule linfoidi innate di tipo 2 possono contribuire anche loro alla produzione di interleuchina 5 e interleuchina 13 mentre le cellule TL per 1 e TL per 17 possono portare a un'infiammazione di tipo più neutrofilico il rimodellamento e la riparazione delle pareti delle vie aeree sono processi molto importanti che potrebbero essere determinati da citochine legate alla risposta TL per 2 nonché da fattori di crescita e da citochine che sono derivate dalle cellule epiteliale e dai macrofagi volevo mostrarvi anche qualcosa di vita reale che non fosse solo uno schema della risposta infiammatoria questi sono delle immagini che derivano da purtroppo sono dei reperti autottici di morte per asma e vedete che a livello del bronco di medio calibro noi abbiamo un lume completamente ostruito da muco e da detriti cellulari la parete del bronchiolo presenta un aumento dell'area occupata dal muscolo liscio da un'ectasia dei vasi e c'è un marcato infiltrato infiammatorio costituito prevalentemente da granulociti e osinofili invece sulla destra vedete un bronco di calibro più piccolo qui abbiamo un calibro estremamente ridotto anche qui per una contrazione del muscolo liscio bronchiale la parete del bronchiolo presenta un aumento dell'area occupata dal muscolo come prima marcato infiltrato infiammatorio e anche qui tantissimi granulociti e osinofili passiamo alla a un aspetto importante che non è proprio l'oggetto di questa riunione ma sicuramente ha un impatto le ultime linee guida ci dicono che effettivamente l'infiammazione è così importante che la principale il principale target dell'infiammazione della della terapia anche nella fase iniziale della valutazione del paziente è l'antinfiammatorio antinfiammatorio inalatorio quindi il corticosteroide inalatorio e le linee guida più recenti ci dicono inizia a trattare il paziente con la combinazione ICS LABA al bisogno questo è un dato importante perché anche nell'aspetto più pratico della vita quotidiana del medico viene riconosciuto l'importanza del meccanismo infiammatorio che sottende la patologia ASMA passiamo ora all'altra patologia importante per per lo pneumologo che è la broncopremopatia cronico-ostruttiva si tratta di una malattia comune purtroppo prevenibile trattabile che è caratterizzata da persistenti sintomi respiratori e limitazione al flusso aereo che è dovuta anche qui a delle anomalie delle vie aeree e anche delle anomalie alveolari che sono solitamente causate da una significativa esposizione a particelle nocive o a gas la BPCO è attualmente una delle tre principali cause di morte a livello mondiale il 90% dei decessi correlati a BPCO si verifica nei paesi a basso e medio reddito pro capite ma si stima che a partire dagli anni 2010 circa 3 milioni di persone all'anno muoiano per BPCO rappresentando complessivamente il 6% di tutti i decessi la BPCO è una patologia che rappresenta un importante problema di sanità pubblica perché rappresenta come vi dicevo una delle maggiori cause di morbidità e di mortalità cronica a livello mondiale molte persone soffrono di questa malattia per anni muoiono prematuramente a causa delle complicanze e si prevede che il costo legato a questa patologia aumenti progressivamente nel corso di questi anni perché a causa della continua esposizione a fattori di rischio dell'invecchiamento della popolazione i sintomi più comuni sono la dispnea la tosse la produzione di spettorato e spesso questi sintomi vengono sottostimati dai pazienti abbiamo già visto che il fattore principale di rischio per la BPCO è il fumo di sigarette inalato ma possono contribuire anche altri agenti ambientali come i biocombustibili l'inquinamento atmosferico come ci ha descritto la dottoressa Vanni ma anche ci sono dei fattori legati all'ospite che possono contribuire allo sviluppo di questa malattia come per esempio anomalie genetiche anomalo sviluppo polmonare o invecchiamento precoce per quanto riguarda la risposta infiammatoria nella BPCO anche qui siamo di fronte a un quadro estremamente complesso che proverò a spiegarvi anche se è particolarmente difficile allora giustamente la BPCO è vista come una patologia cronica del tessuto polmonare e principalmente è iniziata dalla narrazione del fumo di sigaretta che è associato a una risposta infiammatoria autolimitante all'inizio che poi diventa cronica alla persistente verso il cronicizzarsi della malattia gli inquinanti delle sigarette possono innescare direttamente i famosi PRR come per esempio i toll-like receptor oppure i recettori purinergici le cellule invece autofagiche apoptoptiche o necrotiche morenti possono a loro volta rilasciare indirettamente dei modelli molecolari associati al danno i cosiddetti dump i fattori chemiotattici attirano le cellule infiammatorie nella regione lesa e i legandi delle chimochine i vari CCL2 CCR3 CXC possono attirare monociti neutrofili all'interno della via aerea e queste cellule si differenziano nei macrofagi del polmone per tentare un processo di riparazione del danno queste chemochine attirano anche delle cellule TL per 1 e di tipo citotossico mentre i macrofagi le cellule epiteliali le cellule infiammatorie attratte al sito danneggiato rilasciano diverse proteasi come per esempio le metalloproteasi piuttosto che altri altri fattori che possono innescare la degradazione della elastina e quindi portare anche al fenomeno più famoso cioè l'enfisema e in questo caso il sistema immunitario passa da una risposta TL per 17 passa a una risposta TL per 17 per promuovere l'informazione le cellule epiteliali e i macrofagi usano anche il TGF beta che innesca la proliferazione dei fibroblasti per il modellamento dei tessuti la muscolatura liscia delle vie aeree produce delle citochine infiammatorie ancora proteasi fattori di crescita che a loro volta possono contribuire al processo di rimodellamento e ai cambiamenti fenotipici tipici della muscolatura liscia della BPCO il rimodellamento delle pareti delle piccole vie aeree viene proposto come il motivo per la limitazione del flusso aereo fissa della BPCO del declino della funzione polmonare ma anche delle scarse risposte alle terapie disponibili il fumo di sigaretta lo stress ossidativo il microambiente infiammatorio delle vie aeree sono riconosciuti come i parametri principali che hanno un effetto diretto sul fenotipo dei macrofagi alveolari nella BPCO ci sono diversi altri meccanismi come il rimodellamento delle pareti delle vie aeree la compromissione della clearance dei macrofagi e la colonizzazione cronica nonché l'infiammazione delle vie aeree inferiori lo stress ossidativo l'ipossia tisutale la suscettibilità individuale da un punto di vista genetico nonché i cambiamenti epigenetici sono tutti dei meccanismi che sono stati implicati nella persistenza della risposta infiammatoria anche quando il paziente smette di fumare a questo concetto è legato un concetto ancora più complesso che è stato recentemente introdotto che è il concetto dell'inflammaging cioè sostanzialmente viene si sostiene che all'aumentare dell'età questi fenomeni infiammatori vengano ulteriormente perpetrati per l'incremento della disponibilità di specie reattive dell'ossigeno a carico delle vie aeree due parole anche sull'aspetto terapeutico nell'asma nella BPCO così come nell'asma le linee guida per la BPCO che in questo caso sono le gold dedicano un ampio paragrafo proprio alla disponibilità di trattamenti antinfiammatori per questa patologia quindi il paziente viene stratificato anche a seconda della necessità di trattamenti infiammatori che sono di diverso tipo perché noi abbiamo i cortisonici inalatori il cortisonico per bocca però questo viene utilizzato si cerca di utilizzarlo solo nelle fasi acute abbiamo gli inibitori delle fosfodisterasi quindi il roflumilast piuttosto che poi tutti gli altri agenti quindi gli antibiotici e i mucolitici e gli antiossidanti ci sono dei fattori ben descritti per l'utilizzo di questi di questi strumenti terapeutici in particolare per i corticosteroidi inalatori piuttosto che per gli altri farmaci antinfiammatori e in generale l'utilizzo della classe degli antinfiammatori diciamo è particolarmente consigliato per cercare di prevenire le riacutizzazioni di BPCO questo è un piccolo riassunto che vuole concentrarsi sulle differenze che ci sono nelle due malattie delle vie aeree quindi nell'asma noi abbiamo una prevalenza di mastociti e osinofili e linfociti CD4 mentre nella BPCO io ho una prevalenza di neutrofili macrofagi e linfociti CD8 cambiano anche i pattern di risposta e anche le chemochine le citochine che sono implicate nella risposta infiammatoria arriva adesso probabilmente invece la parte a cui io sono più legata che è quella legata alle interstiziopatie forse è anche la parte più difficile difficile anche dare una definizione di interstiziopatia perché oggi all'interno di questa classe di malattie sono raccolte più di 200 condizioni che sono estremamente eterogene tra di loro e che colpiscono il parenchima del polmone con vari gradi di infiammazione ma anche di fibrosi noi sappiamo che possono avere eziologia nota oppure sconosciuta e presentare diversi tipi di presentazione anche in termini temporali sicuramente quello che le accomuna è che la parte danneggiata è lo spazio interstiziale cioè la regione tra epitelio ed endotelio ci sono diversi meccanismi legati alla patogenesi legati appunto a un rimodellamento dello spazio interstiziale ma abbiamo un ruolo di primo piano anche per le altre componenti quindi le cellule endoteliali nonché l'epitelio alveolare le interstiziopatie richiedono appunto un approccio multidisciplinare alla diagnosi perché sono estremamente difficili da definire e purtroppo rappresentano una patologia che porta a un elevatissimo grado di morbidità e di mortalità questo è un'immagine a me molto cara perché io credo che rappresenti un aspetto estremamente importante perché la fibrosi che può essere anche considerata come un l'effetto finale di una risposta infiammatoria non controllata non è un problema solo per il polmone ma di fatto è un meccanismo di danno d'organo che può colpire veramente ogni tipo di organo all'interno del nostro corpo e portare a un danno d'organo finale anche a livello per esempio dell'occhio del fegato del cuore della cute quindi è veramente un meccanismo che non colpisce solo il polmone ma qualsiasi tipo di organo e questa immagine secondo me è importante perché ci dà l'idea dell'impatto di questa risposta che non viene più controllata e porta a un'insufficienza poi del sistema colpito e in particolare all'interno della risposta fibrotica noi riconosciamo quattro fasi principali noi abbiamo una prima fase che è l'inizio della risposta che è guidata ovviamente da una lesione primaria all'organo c'è una attivazione delle cellule fettrici un'elaborazione della matrice extracellulare e poi la deposizione dinamica e purtroppo il riassorbimento insufficiente della matrice extracellulare che promuove la progressione verso la fibrosi e infine verso l'insufficienza d'organo terminale e effettivamente ci sono diversi organi come vi dicevo che hanno un danno proprio secondario a dei cambiamenti fibrotici quindi vuol dire che alla fine il meccanismo che sottende è sempre lo stesso e questa risposta alla ferita è orchestrata da diverse cellule e diversi percorsi molecolari sono stati chiamati in causa tutte le classi cellulari possono contribuire a questo danno sicuramente l'infiammazione e la fibrosi sono due aspetti estremamente correlati perché spesso la fibrosi si instaura perché l'infiammazione non è stata contenuta e quindi a un certo punto si innescano dei meccanismi di riparazione del tessuto che portano poi a neovascolarizzazione e a proliferazione delle cellule mesenchimale e a rimodellamento della matrice noi sappiamo che nella processo fibrotico polmonare sono coinvolte tantissimi tipi di cellule infiammatorie e anche diversi meccanismi di signaling cellulare di pathways appunto di comunicazione intercellulare che rendono anche poi ragione del motivo per cui possiamo avere così tanti tipi di patologia proprio perché c'è una una classe di cellule piuttosto che un signaling prevalente a seconda della singola patologia e questa è un'immagine vecchissima di un libro vecchio che però alla fine dà il messaggio fondamentale se io ho un danno attivo l'infiammazione se riesco a ripararlo io porto a una restituzione di integrum del tessuto quindi anche a livello aviolare se invece il danno non viene se invece l'infiammazione non viene contenuta alla fine questa infiammazione diventa un danno stesso lei per il tessuto quindi torniamo a quello che abbiamo detto in partenza e questo porta poi a fibrosi di quell'area diciamo che al di là di prendere in considerazione le singole cellule nella risposta al danno d'organo i percorsi molecolari fondamentali spesso passano dal famoso TGF beta perché è una 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 citochina importante in tutti i tipi di fibrosi e con il progredire della fibrosi i miofibroblasti proliferano e percepiscono stimoli fisici e biochimici nell'ambiente locale grazie a delle integrine e a delle molecole della superficie cellulare i mediatori invece contrattoli innescano la contrazione patologica del tessuto e questa catena di eventi a sua volta provoca la deformazione dell'organo fisico che comprende la funzione stessa dell'organo e pertanto la biologia della fibrogenesi è un processo dinamico benché anche il grado di plasticità cambia da organo a organo questa è un'immagine che io trovo bellissima io vi invito a scaricare questo paper che è un paper del New England che riguarda lo spettro delle malattie fibrotiche a livello del polmone e questa secondo me è un'immagine che ci dice tantissimo perché vedete che la fase iniziale che è la parte superiore della figura è specifica per ogni malattia consiste principalmente nell'attivazione nella differenziazione dei linfociti dell'autoimmunità e in una in caso di una risposta immunitaria esagerata soprattutto in condizioni immunomediate come le connettivopatie oppure l'infiammazione granulomatosa cronica risultante dalla presenza di un antigene identificato come può essere nella polmonite da ipersensibilità cronica oppure in caso di un'altra esposizione come per esempio in una patologia determinata da un farmaco oppure quando non sappiamo bene qual è l'antigene come per esempio nella sarcoidosi ci sono molteplici fattori di rischio ambientale come ancora il fumo di tabacco l'inquinamento l'esposizione professionale la microaspirazione le infezioni verali che causano lesioni ripetute alla cellula alveolare polmonare e possono rappresentare degli eventi patogenici precoci specialmente nella fibrosi polmonare idiopatica l'invecchiamento io già ve l'avevo citato prima nell'inframaging e il background genetico quindi del singolo individuo nonché le modificazioni epigenetiche possono essere rappresentate anche come dei fattori importanti nel determinare queste condizioni e la maggior parte di questi meccanismi ha luogo a vari livelli in ciascuna di queste patologie che poi portano alla fibrosi polmonare non sempre noi riusciamo a identificare il fattore scatenante perché in alcuni pazienti noi possiamo avere comunque una risoluzione parziale o completa perché magari si è verificata spontaneamente oppure perché abbiamo instaurato una terapia antinfiammatoria può succedere che lo identifichiamo perché abbiamo un'ipotesi l'allontaniamo e quindi il paziente va incontro a un miglioramento vedete che in questa immagine sono riportate anche diversi immagini istologiche quindi di infiammazione cronica per esempio c'è il granuloma della sarcoidosi un pattern N-SIP e più in basso invece viene descritto una fibrosi che invece è in fase terminale come invece si può osservare nella fibrosi polmonare idiopatica nelle sue forme più avanzate il meccanismo fibrotico non è tipico solo della fibrosi polmonare idiopatica come vi dicevo ma fa parte in diverse forme di diverse patologie come appunto le patologie legate al connettivo piuttosto che la sarcoidosi ma anche in alcune forme di infiammazione la cosa che scusate forme di infezione la cosa che è abbastanza importante secondo me da ricordare quando si parla di intestiziopatia è che la peggiore delle intestiziopatie che è la fibrosi polmonare idiopatica è quella associata a meno infiammazione florida e infatti come vedete nella classificazione delle intestiziopatie che è adesso universalmente accettata la fibrosi polmonare idiopatica è stata proprio portata fuori queste sono la classificazione è o è fibrosi polmonare idiopatica oppure è qualcos'altro e questo è identificativo di quanto questa patologia ci faccia paura e come debba essere proprio classificata a parte rispetto a tutte le altre proprio per la sua patogenesi la sua prognosi e la sua terapia questa è un'altra immagine che arriva da New England che io trovo altrettanto importante perché anche qui la fibrosi polmonare idiopatica è a parte perché vedete che tutte le altre intestiziopatie c'è comunque la possibilità di trattare il paziente con un agente antinfiammatorio che può essere il cortisonico piuttosto che dell'altra terapia immunosoppressiva o biologica mentre nell'IPF l'unica strada è l'antifibrotico e qui vi cito solo le linee guida per la definizione e la diagnosi dell'IPF perché io voglio chiudere la mia relazione con un messaggio positivo allora l'anno scorso è stato pubblicato questo trial che io trovo piuttosto importante non so se questa sarà veramente una nuova strada terapeutica però mi sembra importante nel percorso della ricerca di una terapia voi sapete che attualmente abbiamo sulla disposizione due farmaci approvati per la fibrosi polmonare idiopatica che sono l'intenami del perfenidone ma l'anno scorso è stato studiato la possibilità di trattare la fosfodiesterasi quarta con un inibitore specifico in particolare questo è uno studio in fase 2 in doppio cieco controllato con placebo in cui è stata studiata l'efficacia di questo nuovo farmaco che è un inibitore preferenziale del sottotipo di fosfodiesterasi 4B qui è stato praticamente sono stati presi dei pazienti alcuni sono stati trattati con l'antifibrotico altri no e sono stati divisi in gruppo con il farmaco e in gruppo placebo e nei pazienti che sono stati trattati con il farmaco è stata dimostrata un rallentamento della della progressione del declino della capacità vitale forzata in particolare in alcuni è stato addirittura visto un lieve recupero diciamo che il vero dato è che chi prendeva il farmaco non perdeva questo è il vero messaggio da passare quindi io so di aver fatto una relazione complessa perché purtroppo il titolo è anche molto difficile però vorrei passarvi tre messaggi fondamentali in tutte le patologie delle vie aere anche quelle che oggi non erano citate il meccanismo infiammatorio è quello che sottenne la patologia però il meccanismo infiammatorio cambia ed è per quello che le patologie sono diverse quindi prima di tutto l'infiammazione è un meccanismo patogenetico l'infiammazione però può anche essere un marker di come sta andando la malattia se sta progredendo se è in una fase acuta se è in una fase di quiescenza ma soprattutto l'infiammazione è il nostro target terapeutico e questo è veramente dove deve concentrarsi la ricerca perché noi dobbiamo cercare di dare ai nostri pazienti sempre dei nuovi strumenti per curarli io vi ringrazio dell'attenzione e ringrazio tutte le persone con cui lavoro quotidianamente grazie Letizia grazie per questa relazione piuttosto complessa hai messo tanta carne a fuoco penso che possa suscitare tante domande nei nostri colleghi che ci stanno seguendo in questo momento e siamo un pochino oltre quei tempi ricordo ai colleghi che possono mandare le vostre domande cliccando il pulsante che si trova in basso a destra per appunto entrare le domande che ritengono opportune e cambierei adesso un attimo il tono delle relazioni passando ai colleghi miei più strettamente chirurgici io prego di rimanere un po' nei tempi perché siamo un pochino oltre cominciamo con il dottor Paolo Mendogni che lavora con me presso la patologia toracica tra i canti di polmoni del Policlinico e ci parlerà della distrofia bollosa e del primo torace una patologia quindi piuttosto comune una patologia diciamo anche abbastanza diffusa soprattutto primo torace presente nei ragazzi giovani quindi insomma con una certa un certo impatto su quello che possono essere i nostri concittadini prego Paolo grazie a tutti grazie prof per la presentazione come anticipato l'argomento della mia relazione sarà il trattamento del pneumo torace allora partiamo con fondamentalmente la definizione del pneumo torace pneumo torace e qua parliamo di pneumo torace spontaneo corrisponde alla presenza di aria nello spazio pleurico in assenza di eventi traumatici o eventi o eventi di atrogini e possiamo dividere pneumo torace in due sottoclassi lo pneumo torace spontaneo e primitivo dove non sottostà una patologia polmonare concomitante quindi in assenza di una vera pneumopatia che è più frequente sicuramente nei maschi circa 30 su 100.000 casi piuttosto che le femmine circa 5 su 100.000 casi ed è caratterizzato dalla presenza all'attac del torace nel 90% dei casi di blebs o bolle dipende ovviamente dalla dimensione visibili tipicamente colpisce pazienti giovani pazienti alti pazienti magri questo verosimilmente dovuto a quello che è un aumento di gradiente di pressione negativa intrapleurica dall'apice alla base per cui provoca questo provoca verosimilmente la formazione di queste bolle sottopleuriche apicali o quantomeno agli apici dei lobi polmonari è interessante vedere come i pazienti affetti da pneumotorace spontaneo ovvero i pazienti affetti da piccole bolle apicali vanno incontro all'opneumotorace con un rischio dello 0,1% nei non fumatori mentre per i fumatori quindi il fumo è sicuramente un grosso fattore di rischio per la presentazione dell'opneumotorace spontaneo e per le sue recidive diverso è l'opneumotorace spontaneo secondario ovvero un'opneumotorace che avviene spontaneamente ma con una patologia polmonare concomitante sottostante tipicamente la fibrosicistica la BPCO la tubercolosi o la patologia neoplastica è caratterizzato da una sicuramente morbidità e una mortalità sicuramente maggiore e allo stesso tempo ha una sintomatologia ovviamente maggiore dovuta proprio alla delicatezza già della della patologia polmonare sottostante queste sono fondamentalmente le due linee guida a cui ancora fa riferimento la società scientific si fa riferimento nella pratica clinica vediamo che una è quella americana che è una consensus delfi del 2001 e quella a cui fondamentalmente nella maggior parte dei casi fa riferimento sono le linee guida della British Toracic Society del 2010 vediamo come viene definito il pneumo Torace prendendo in considerazione la lastra del Torace lo pneumo Torace viene considerato in termini di size large o small dalle linee guida americane considerando la distanza tra l'apice e la cupola plea maggiore di 3 cm le linee guida inglesi invece considerano l'istaccamento dalla parte laterale all'ilo è sempre meglio ovviamente valutare tutto questo con la lastra in inspirio in quanto l'espirio aumenta sicuramente l'entità del pneumo Torace stesso ora quindi l'RX Torace viene ad essere il primo strumento utile per la diagnosi del pneumo Torace secondariamente l'attacco del Torace è definita sicuramente il gold standard in quelli che sono i pneumo Torace di piccole dimensioni sia per valutare l'identità del pneumo Torace stesso sia per diagnosticare quelle che sono e che vedete nella fotografia in fianco le blebs o le bolle sottostanti che spesso non sono sempre ben visibili e spesso ad occhio esperto vengono confuse con una piccola fibrosi esiti apicali quando in realtà sono delle micro bolle che poi alla toracoscopia sono ben evidenti l'attacco del Torace è utile nei casi di dubbia diagnosi quando bisogna fare una diagnosi differenziale con un pneumo Torace saccato da una megabolla e è interessante vedere come le linee guida british raccomandano al primo episodio l'attacco mentre le linee guida americane non lo raccomando dal primo episodio personalmente solitamente lo facciamo sempre altro strumento molto utile è l'ecografia toracica dove il segno di pneumo Torace è l'assenza fondamentalmente di quello che è lo sglaido pleurico ovvero il scorrimento della pleura che si vede agli atti respiratori c'è da dire che ha sicuramente una bassa sensibilità nei piccoli pneumo toraci e non è solitamente indicata per la prima di anni se non in urgenza ma viene ad essere molto utile per il monitoraggio nel pneumo torace nei pazienti giovani soprattutto magari nel post-operatorio quando vogliamo evitare di sottoporre il paziente a troppe radiazioni un esempio di pneumo torace large vedete che la distanza è sopra i 3 cm all'apice da una parte arriva a 38 e dall'altra a 48 mm fino ad arrivare a poter essere un pneumo torace iperteso vedete che il polmone di sinistro si riduce ad un pugno e la cavità pleurica di sinistra è sicuramente sovradimensionata rispetto alla destra con uno sbambieramento del mediastino e ovviamente qua viene ad essere un'urgenza clinica e la necessità di immediato posizionamento di drenaggio come vediamo a destra ripresa della riespansione polmonare totale questo è un esempio con un attacco del torace di un grosso torace iperteso a destra dove si vede l'assenza quasi di tessuto polmonare areato a destra uno sbambieramento controlaterale importante del mediastino schiacciamento delle mito racchi di sinistra e ovviamente questa è un'urgenza clinica soprattutto su quello che è il danno da ridotto ritorno venoso e da istruzione delle cavità delle vene cave che provoca l'ipertensione del cavo stesso questo è un esempio di un premotorace spontaneo secondario di una nostra paziente affetta da linfangio leiomiamatosi peraltro in nota per trapianto di polmone vedete a sinistra come il premotorace secondario è saccato c'è da dire che spesso questi pazienti hanno premotoraci recidivi e se non erro questa paziente credo che abbia messo 10 drenaggi toratici nella propria vita una giovane paziente di 40 anni vedete come può essere complicata poi anche la gestione del drenaggio stesso e la possibilità di drenare un premotorace così pluriconcamberato altro elemento importante è la possibilità di oltre al pneumotorace la coesistenza di versamento pleurico in questo caso un pneumotorace vedete che c'è un livello oltre al pneumotorace large in paziente di 50 anni c'è un livello idroereo quindi il presente di liquido alla base che dopo posizionamento di drenaggio si è rivelato essere sangue è dato dalla presenza di attivo sanguinamento vedete nella immagine in alto a sinistra dell'attac attivo sanguinamento di questo vaso che possibilmente è una aderenza apicale che sul pneumotorace va a rompersi e provoca emotorace che può necessitare nella maggior parte dei casi una immediata valutazione chirurgica e toalette chirurgica urgente diverso è il caso della distrofia polmonare bollosa vedete che le bolle in questo caso nel BPCO sono presenti non solo all'apice ma in gran parte del polmone quello che si chiama vanish lung più evidente nel polmone di sinistra in questo caso la chirurgia ha delle indicazioni ben precise sia sul pneumotorace stesso sia sulla riduzione di volume sia sulla prevenzione di eventuali successivi pneumotorace come viene trattato il pneumotorace primitivo fondamentalmente ci sono tre le possibilità di trattamento l'osservazione diciamo che british che è quello cui si fa in gran parte riferimento suggeriscono un'osservazione non drenaggio nei piccoli pneumotoraci in essenza di dispnea o in alcuni casi di pneumotoraci ampi si passa all'aspirazione con ago noi fondamentalmente non lo utilizziamo molto nei pneumotoraci ampi il drenaggio ovviamente è indicato sempre se bilaterale sempre se iperteso o se instabile modemicamente è interessante come è indicata l'ampiezza del pneumotorace come una relativa indicazione al drenaggio ma la dispnea quindi la sintomatologia è un'assoluta indicazione al drenaggio diverso è per quanto riguarda il secondario fondamentalmente l'osservazione in quando indicata raramente ma in tutti i pazienti è indicato in regime di ricovero con supporto di ossigeno non viene quasi mai presa in considerazione l'aspirazione il drenaggio sicuramente sempre se bilaterale con le stesse indicazioni del primitivo e nella maggior parte dei pazienti viene viene indicato il drenaggio torace per quanto riguarda l'approccio chirurgico alla terapia del pneumotorace per quanto riguarda il primitivo di solito viene proposto al secondo episodio di pneumotorace stesso monolaterale o al primo episodio controlaterale o ovviamente al sincrono bilaterale se non che quando anche al primo episodio sono presenti delle perdite aeree persistenti e una mancata di espansione polmonare o come nel caso visto presenza di sangue nel torace oppure in pazienti con attività lavorativa ad alto rischio come i piloti su barco i sportivi con sport di contatto eccetera quanto si dà si dà anche grosso spazio a quella che è la patient choice ovvero la scelta del paziente a sistemare subito il problema al primo episodio e quindi se il paziente richiede per esigenze personali psicologiche o pratiche di sottoporsi all'intervento subito è una possibilità che va tenuta in considerazione per quanto riguarda il secondario non c'è un evidente preciso timing di chirurgia che va ad essere diciamo a scelta del centro quello che viene raccomandato è un early refer dopo 48 ore in un centro esperto che cosa facciamo cosa si fa cosa viene consigliato di fare per quanto riguarda il trattamento chirurgico ovviamente viene presa in considerazione anche la toracotomia con la pleuretomia con la bullectomia che gioco forza garantisce il più basso tasso di recidiva ovviamente rispetto a quella che è la l'approccio toracoscopico ma che fondamentalmente non viene quasi anzi non viene più utilizzata se non in rari casi eccezionali quello che è il gold standard della VAF quindi l'approccio mini invasivo è quello che ovviamente è molto meglio tollerato dal paziente sia dal punto di vista estetico sia dal punto di vista di decorso post operatorio dolore e ripresa post operatoria e prevede fondamentalmente quella che gli obiettivi dell'intervento chirurgico sono fondamentalmente due uno la resezione quindi l'asportazione della causa del premotorace stesso se è evidente quindi di queste bolle con delle sotturatrici meccaniche che tolgono la piccola parte di polmone spesso l'apice dove sono evidenti queste bolle e seconda e probabilmente più importante questa creazione di sintesi pleurica che previene effettivamente le recidive ovvero non previene la rottura di un'ulteriore bolla successivamente ma previene la formazione di premotorace quindi fondamentalmente questa sintesi pleurica viene eseguita tramite la pleuretomia o anche tramite l'abrasione pleurica quindi la bruciatura o la scarificazione pleurica come creazione di un'infiammazione che fa attaccare il polmone ovvero la pleura viscerale alla pleura alla pleura parietale la pleurodesi chimica invece medica nel premotorace spontaneo viene indicata solo se non possibile quella chirurgica può essere effettuata attraverso il drenaggio o attraverso la toracoscopia con antibiotici o ma comunque la metodica viene sempre meno utilizzata la pleurodesi invece chimica chirurgica viene attraverso talco sterile che preferite agli antibiotici e viene utilizzata sicuramente molto di più nel secondario rispetto al primitivo e è molto più efficace se fatta attraverso la toracoscopia rispetto al drenaggio stesso quella che è la nostra esperienza una misurazione empirica fondamentalmente di quello che è l'entità del premotorace stesso ovvero va valutato paziente su paziente non utilizziamo molto non utilizziamo molto l'aspirazione e neanche fondamentalmente l'aspirazione stessa l'indicazione segue sostanzialmente la linea guida della British Toracic Society e come dicevo noi siamo soliti fare sempre un'attacca al primo episodio per valutare l'entità delle bolle stesse della patologia sottostante importante una valutazione anamnestica per eventualmente valutare la la presenza di altri episodi non diagnosticati precedentemente e quello che facciamo quando approcciamo chirurgicamente il premotorace è una toracoscopia adesso anche robot assistita con due o tre accessi più frequentemente toracoscopici andiamo a resecare le bolle e l'apice polmonare e andiamo a scarificare la pleura parietale nel margine costale interno oltre a fare una pleuretomia apicale parziale come creazione sempli di pleurica non siamo assolutamente soliti fare il talcaggio nei pazienti giovani questo perché ovviamente il talco è un agente che con possibili effetti cancerogeni evitiamo nei pazienti giovani uno o due drenaggi nel postoperatorio che manteniamo circa per cinque giorni spesso nelle prime 48 ore manteniamo l'aspirazione ed evitiamo antinfiammatori per evitare che non si formino quelle aderenze che tanto vogliamo per quanto riguarda la secondario anche qui l'indicazione segue le linee guida della British poca osservazione con l'RX se è sintomatico drenaggio se è sintomatico sostanzialmente è qui che andiamo a fare la pleurotesi chimica dal drenaggio e toracico in alcuni casi spesso non portiamo il paziente a anestesia generale ma approcciamo chirurgicamente con paziente sveglio e fondamentalmente seguiamo quelle che sono i passi effettuati nel primario aggiungendo nei pazienti anziani gravi epizematosi anche il talco vado a concludere sottolineando anche la nostra attitudine scientifica su questo argomento del pneumo torace che ci ha portato anche a poter con orgoglio vado a comunicare la presenza di quelle che sono le linee guida della società italiana di chirurgia toracica coordinate dal nostro direttore che sono ben visibili sul sito dell'istituto superiore di sanità e che sono facilmente consultabili da tutti vi ringrazio grazie Paolo per la tua relazione purtroppo siamo un pochino indietro coi tempi siamo un pochino lunghi e quindi introduco subito il professore Alessandro Palleschi professor associato all'università di Milano è uno dei miei collaboratori nel reparto di chirurgia toracica tra piante di polmone che ci darà Alessandro ti prego di essere molto compatto altrimenti non siamo nei tempi che ci darà una prima lettura di quello che può essere un argomento estremamente complesso come il trapianto di polmone e l'insufficienza respiratoria terminale che è appunto la fase più complessa e l'ultima delle problematiche che abbiamo visto questa mattina prego Alessandro grazie per la presentazione sì cercherò ovviamente di stare nei tempi considerando come diceva il professor Nusotti l'argomento è sicuramente denso cerco di dare a tutti un overview di quello che è il percorso del trapianto il percorso di un paziente candidato a trapianto di polmone è ovviamente un percorso come potete immaginare assolutamente difficile il candidato a trapianto di polmone è un paziente con una disfunzione polmonare che poi diventa dopo il trapianto e quindi dopo l'incontro di necessità col donatore quindi con il polmone del donatore un paziente un ricevente dei trapianti di polmone che è un paziente con una patologia completamente diversa che non sarà più strettamente polmonare ma vi assicuro è un paziente come potete immaginare estremamente complesso tre note indispensabili per i non addetti ai lavori prima di iniziare qualsiasi tipo di discussione sul trapianto di polmone il trapianto di polmone è la cenerentola dei trapianti inizia nell'83 tra poco ci sarà l'anniversario del primo trapianto clinico di successo negli anni è diventata una realtà i numeri sono sicuramente cresciuti non sono ovviamente paragonabili con i numeri degli altri trapianti d'organo dall'altra parte questa è la situazione la fotografia italiana come potete vedere nella parte sotto il numero dei pazienti trapiantati tutti gli anni nella parte sopra il numero dei pazienti in lista d'attezza capite che in mezzo in questa forbice in questo spazio bianco ci sono tutti quei pazienti che sono in lista d'attesa e che non ricevono non riceveranno l'organo in tempo probabilmente per le loro necessità per cui la problematica ovviamente si traduce che cosa nel deficit nella scarsezza scarsità degli organi trapiantati dall'altra parte una sopravvivenza sicuramente soddisfacente sono pazienti lo vedremo delicati per cui gli offriamo un trapianto che è un trapianto salvavita parlando di polmone vedete come però a cinque anni la sopravvivenza poi magari nei centri più virtuosi sale di un pochino ma a cinque anni la sopravvivenza si asseste intorno al 60% per cui un'ottima opzione terapeutica sicuramente lo vedremo qualcosina di più si può fare ma quali sono i pazienti che vengono candidati a trapianto qual è questa tipologia di pazienti sono sostanzialmente pazienti adulti con una patologia cronica end stage cioè per il quale tutte le terapie sono state effettuate e quando parliamo di terapia parliamo anche dell'ossigeno terapia per cui non è sufficiente la necessità dell'ossigeno terapia per dire che quel paziente è candidabile o da candidare a trapianto di polmone dall'altra parte abbiamo due punti che sono ovviamente facilissimi da gestire ma che aiutano quindi un'alta probabilità per quel paziente di decesso nei due anni successivi alla nostra valutazione in assenza di trapianto di polmone ma dall'altra parte anche una ottima probabilità di poter affrontare i cinque anni successivi appunto al trapianto come si traduce la cosa in un candidato che sia effettivamente ovviamente malato che sia abbastanza malato ma non così tanto malato per poter superare quello che è un percorso assolutamente difficile e vado un pochino veloce su queste cose ovviamente così come ci sono le indicazioni ci sono anche le controindicazioni a questo percorso un po' così complicato alcune sono sostanzialmente quasi assolute e la presenza di mancanza di accettazione da parte del paziente o una neoplasia maligna che non abbia ancora superato i cinque anni di follow up di monitoraggio dopo il trattamento ad esempio sono controindicazioni ancora assolute ci sono poi delle controindicazioni cosiddette più soft che possono essere dei fattori di rischio che vanno tenuti in considerazione dallo specialista che forse più che in sé vanno considerate nel momento in cui ce ne sono diverse quindi è facile pensare che abbiamo se abbiamo un paziente anziano che supera i 65 anni di età o i 70 anni di età e si associa a una grossa problematica di un altro organo ovviamente la somma dei due fattori di rischio può diventare una controindicazione assoluta una piccola come dire capello è quello del paziente in supporto cardiorespiratorio extracorporeo noi ci abbiamo creduto all'inizio siamo stati uno dei primi centri a credere di poter arrivare al trapianto in questo modo con l'ecmo con la circolazione extracorporea che permette comunque di effettuare la fisioterapia e la mobilizzazione del paziente sicuramente il covid ci ha la pandemia da covid ci ha messo di fronte alla necessità di ampliare probabilmente questo tipo di indicazioni che sicuramente è difficile ma in cui anche noi abbiamo creduto e abbiamo partecipato ma se queste sono le indicazioni generali in che cosa poi si traduce nella vita clinica di tutti i giorni che è la cosa poi che ci interessa beh sono sostanzialmente le patologie di cui ho parlato prima l'opera Samorlachi la bronchite cronica le fibrosi polmonari chiamiamo interstiziopatia in generale non scendiamo ovviamente nei dettagli e la fibrosi cistica come vedete l'andamento nel tempo di queste che sono le tre principali indicazioni non le uniche ovviamente è stata a favore ultimamente dell'apertura all'interstiziopatia per una motivazione un pochino più tecnica è stato il cambiamento la modifica dei criteri di allocazione dall'altra parte vedete come siamo contenti di questo la fibrosi cistica sta calando come indicazione questo perché fortunatamente i nuovi farmaci fanno effetto e vediamo sempre meno pazienti quindi abbiamo un paziente che va riferito a un centro trapianto che può essere riferito direttamente all'interno dell'ospedale oppure può arrivare molto più spesso dal territorio verrà valutato dal centro trapianto e a questo punto può essere non elegibile alla messa in lista o al trapianto oppure elegibile d'amblè e quindi messo in lista d'attesa oppure cosa che succede abbastanza spesso può essere che ci si trovi in una condizione in cui il paziente non ha ancora i criteri le indicazioni o non ha ancora gestito le controindicazioni per cui va seguito questo è un percorso molto importante perché in quel follow up che ho indicato noi possiamo andare a ottimizzare un paziente che in partenza aveva delle controindicazioni eccessive al trapianto ma possiamo ad esempio fargli ottenere un BMI corretto correggere un'eventuale coronaropatia e poi poterlo poterlo mettere in vista d'attesa la valutazione sostanzialmente è una valutazione che ovviamente andrà a vedere la funzione polmonare molto importante è il trend eventualmente più che il valore assoluto e un evento importante è l'ipertensione polmonare che è un grosso campanello d'allarme per il peggioramento del paziente e la necessità di ospedalizzazione o di insorgenza di complicanze questi ma li sapete sono un po' la traduzione radiologica dei nostri pazienti ovviamente ogni categoria di patologia avrà delle indicazioni o delle attenzioni particolari proprio per la qualità della patologia e del danno polmonare possiamo effettuare un trapianto singolo bilaterale in alcuni casi la scelta è facile paziente con patologia supporattiva quale la fibrosicistica va di default a un trapianto bilaterale perché non potremmo mai lasciare un polmone nativo infetto con la successiva terapia immunosoppressiva di cui ha bisogno per altri si può scegliere ovviamente l'annoso dibattito è accontentare due riceventi con un donatore con due trapianti singoli oppure dare la maggior chance di resa di quel trapianto a un ricevente solo con un trapianto bilaterale sequenziale solo per completezza ovviamente non c'è soltanto trapianto di polmone isolato ma può essere un trapianto multiorgano in associazione col cuore con il rene o con il fegato arriva la telefonata centro trapianti qual è il nostro? c'è il match donatore ricevente dobbiamo trovare il ricevente adeguato per quel donatore spesso andiamo in aereo andiamo in macchina l'Italia lo sappiamo è lunga e stretta ma abbiamo bisogno a volte anche di trasporto su aria abbiamo sotto una formuletta che ci dà un po' un'idea della capacità vitale teorica per un match di dimensioni capite che non è scontato dare un polmone più piccolo a un ricevente più grande si sono inventati noi a Milano l'abbiamo sposato per prima in America quello che è l'angalo cash score uno scoring che rende secondo noi più oggettivo e più equa la lista d'attesa ed ha anche dalle sue la qualità di essere un bel bilancio tra vedete i fattori che possono portare alla mortalità in lista d'attesa bilanciata con l'attesa della sopravvivenza quindi il concetto del paziente malato ma non troppo malato dall'altra parte abbiamo degli scoring per il donatore su cui vado veloce preservazione e prelievo che viene sfrutta da sempre il freddo anche se adesso abbiamo visto e ci hanno detto che la temperatura migliore è la preservazione a dieci gradi questo è un po' il percorso per cui viene effettuato il prelievo del blocco bipolmonare che vedete qui viene preparato e viene separato perché oggi il trapianto è bilaterale sequenziale prima un polmone poi l'altro qua viene separato il bronco viene preparato e viene effettuata quella che è la perfusione retrograda per pulire dagli eventuali microtrombi che si sono formati ma abbiamo iniziato dicendo che il pool di donatori è carente per cui ci sia tutta una serie di possibilità alcune non sono di nostra competenza ovviamente ma sono relegate alla parte insomma più amministrativa su qualcosa possiamo farlo e abbiamo ampliato il nostro bacino andando ad accettare dei donatori che un tempo non accettavamo per cui andando a prendere dei donatori con polmoni con delle caratteristiche di marginalità anche se non è un termine meno però solo per farvi vedere noi abbiamo da questa parte due polmoni ottimali da questa parte lo potete vedere anche voi due polmoni contusi e assolutamente di bassa qualità e allora che cosa ci siamo inventati ci siamo inventati la possibilità di rivalutare degli organi dubbio degli organi danneggiati attraverso l'ex vivo l'amperfusion che è un circuito ecmo extracorporeo che come vedete poi va a perfondere e ventilare il polmono come vedete in questi due piccoli video sono due piattaforme che noi usiamo al Policlinico per ricondizionare gli organi e rivalutarli a sinistra una piattaforma statica a destra addirittura una piattaforma mobile che ci consente di prelevare gli organi in altri centri di donazione italiana e trasportarli direttamente in macchina in Policlinico che cosa possiamo fare veramente di tutto le cose più semplici e storiche sono la radiografia del polmone non del torace ma del polmone fuori dal corpo il peso del polmone per andare a vedere se siamo riusciti ad asciugarlo dall'edema pulmonare o addirittura una broncoscopia ovviamente il futuro è la possibilità di migliorare questi polmoni e di farli diventare così anche se poi nella pratica a volte il polmone durante la rivalutazione in ex vivo non riparte in questo caso addirittura faceva broncorea questo liquido che vedete uscire dal tubo ma questa per noi è un'ottima cosa un'ottima cosa perché questo sarebbe un polmone che avremmo impiantato direttamente nel nostro ricevente e non sarebbe partito per cui meglio accorgersene fuori dal ricevente che non direttamente una volta impiantato effettuato l'impianto qua siamo andati a sviluppare una tecnica per cui effettuiamo una riduzione di volume del polmone per consentire un trapianto da un paziente con dimensioni maggiore una capacità vitale maggiore in pazienti con dei polmoni più piccoli una nota ma molto veloce siamo stati pionieri in quello che è l'ampiamento del bacino di donatori con i donatori a cuore fermo e quindi abbiamo studiato e abbiamo sviluppato un percorso assolutamente originale che adesso stanno riproducendo un po' in tutto il mondo grazie al quale siamo riusciti a recuperare anche questo tipo di polmone abbiamo recuperato il nostro polmone lo abbiamo migliorato ovviamente c'è a questo punto da impiattarlo questa è la classica sequenza di anastomosi bronchiale anastomosi dell'arteria polmonare anastomosi dell'atrio della cuffia atriale vedete qui un polmone affetto da BPCO ancora impiantato che deve essere sostituito e da questa parte un polmone appena impiantato così alla fine dell'intervento con i due polmoni sostituiti che hanno ripreso a vitalità non è sempre facile a volte abbiamo bisogno del supporto circolatorio extracorporeo anche durante il trapianto è una procedura che noi conosciamo bene abbiamo i nostri cardiochirurghi che ci danno una mano e andiamo avanti vado velocemente su questa parte che sicuramente avrebbe bisogno di tutta un'altra presentazione che è quello a cui accennavo all'inizio sono pazienti che cambiano nome cambiano problematica ma restano dei pazienti assolutamente delicati le complicanze sono tante mi soffermo solo sulla ovvia rischio di infezioni e di rigetto che sono sicuramente i due topic su cui noi ci basiamo di più perché il bilancio tra la profilassi infettiva e di rigetto è molto delicato perché capite come le due cose vadano di basso a bracetto e abbiamo il nostro protocollo di sorveglianza che ovviamente ci consente di attuare questa sorveglianza attiva molto stretta questo è solo per dirvi come potete immaginare abbiamo all'inizio una tipologia di complicanze che è soprattutto infettiva nella prima fase ma nel proseguo del follow up del nostro paziente aumenteranno il numero dei rigetti cronici e aumenteranno il numero delle neoplasie maligne che ovviamente si sviluppano favorite dall'immunosoppressione però abbiamo delle problematiche ma il nostro paziente che era un paziente sufficiente respiratorio che faceva fatica ad attendere alle sue abitudini di tutti i giorni lavarsi alzarsi e mangiare riprende uno stato funzionale che è ottimale che viene mantenuto e questo è un messaggio sulla qualità di vita del nostro paziente che viene ovviamente e deve essere sottolineato vado a concludere con due o tre concetti fondamentali quindi sottolineo e ci tengo a sottolineare che il trapianto di polmone oggi è una realtà clinica sottolineiamo e noi ci crediamo molto nella necessità del riferimento al centro trapianti precoce perché tanto si deve fare su quel paziente prima di poter o di dover arrivare al trapianto la necessità per tutti di ampliare di sensibilizzare la popolazione sulla necessità e sull'utilità della donazione e il rigetto cronico su cui noi stiamo lavorando tanto al nostro centro tutti insieme con la nostra biologia molecolare e così come stanno lavorando alla costruzione del nuovo policlinico che speriamo arrivi insieme con la terapia di rigetto cronico grazie a tutti grazie Alessandro ringrazio il professor Palleschi per questa carrellata estremamente veloce è un argomento questo del trapianto polmonare vastissimo e quindi sicuramente affrontato in pochi minuti non è facile ci tengo a sottolineare una cosa cioè riguardo a quest'ultimo argomento che il diciamo il professor Palleschi ha sottolineato il discorso della necessità di sensibilizzare la popolazione alla donazione e questo è un percorso che si sta facendo nel nostro paese delle nostre ricerche in base alla possibilità che vogliono essere indirizzate la possibilità di recuperare organi sempre più marginali per soddisfare le richieste però quello che vorrei approfittare per la platea vasta con la quale abbiamo oggi è quella di sottolineare il fatto che noi in Italia abbiamo una percentuale di pazienti trapiantati ogni anno che è di 2,4 per milione di abitanti quando nel resto dell'Europa è il doppio quindi questo vuol dire che ancora non c'è una sensibilità da parte dei nostri colleghi dei cromologi della medicina di base dei reparti spessualistici a considerare il trapianto di polmone come ha detto giustamente Palleschi come una realtà clinica e quindi valutare il paziente inviarlo ai centri trapianti che sono nuovi in Italia perché ci sia la valutazione e la possibilità di offrire questa opzione terapeutica a questi pazienti per cui mi taccio subito passo la parola al professor Lorenzo Rosso per portare a conoscenza di tutti quelle che sono state le domande e fare un po' di discussione prego Lorenzo eccoci allora direi che innanzitutto quello che la dottoressa Vanni possiamo cominciare a ci sono arrivate delle domande dai dai nostri uditori e comincerei subito a una domanda proprio rivolta alla dottoressa Vanni e alla prima relazione la dottoressa Baroni ci chiede è troppo presto per studi che riguardano l'uso della mascherina per proteggerci dall'inquinamento atmosferico allora assolutamente sì al momento non ce ne sono sicuramente quello che però si è si è evinto anche proprio tutta la nostra esperienza clinica è basato sul fatto che comunque a seguito proprio della pandemia con l'utilizzo comunque diffuso delle mascherine questo sicuramente ha aggiornato comunque la riduzione comunque delle delle reacutizzazioni comunque degli eventi effettivi infettivi nei pazienti comunque bronchitici cronici quindi ma non solo questo ma anche proprio anche un po' l'abitudine anche alla ridotta frequentazione ha sicuramente influito su questo aspetto quindi seppur non ci sono studi però c'è un'evidenza comunque del fatto che questo ha sicuramente favorito un miglioramento da questo punto di vista sulle infezioni allora faccio una domanda io che invece può interessare sia la dottoressa Vanni che anche la dottoressa Morlac vi parlo ovviamente tanto del fumore di tabacco in una come uno dei cofattori assieme all'inquinamento eccetera ma riguardo invece la sigaretta elettronica che ha preso estremamente piede negli ultimi nell'ultimo decennio anche tra i giovani riguardo a infiammazione riguardo a patologie croniche come qual è la comunità scientifica come si pone verso il problema infiammazione verso patologie polmonari croniche beh in realtà sono più aspetti da sottolineare sull'utilizzo della sigaretta elettronica in quanto quello che si evince dall'utilizzo della sigaretta elettronica che riduce comunque l'attività antimicrobica per cui sicuramente quindi influenza come aumenta quindi il fattore di rischio quindi delle infezioni se poi è correlato con il fatto che l'utilizzo è prevalente nei soggetti più giovani quindi questo durante quindi gli adolescenti comunque è sempre più precoce l'utilizzo e quindi sono ancora in una fase di maturità polmonare quindi le infezioni in quella fase aumenta ovviamente il rischio quindi di un danno polmonare quindi poi di un'evoluzione stessa beh cioè dell'evoluzione verso quindi una patologia polmonare cronica tendo poi conto anche del fatto che la sigaretta non tanto cioè proprio il calore emanato quindi proprio il vapore altera comunque anche un po' proprio la motilità delle ciglia vibratili quindi proprio riduce proprio anche proprio fisicamente quindi la capacità comunque di espellere di eliminare quindi i patogeni con cui almeno di noi viene in contatto ma non solo i patogeni ma anche proprio comunque tutte le polveri a cui noi siamo esposti ok abbiamo sicuramente alcune domande anche per la dottoressa Morlacchi il collega e il dottor Iaccaruso chiede quali sono i farmaci antiflogosi da utilizzare e contenere la fibrosi ma allora in questo momento purtroppo non abbiamo molto perché per la fibrosi polmonare idiopatica l'unico trial accettato è quello che vi ho presentato sulla fosfodiesterasi 4b che è un inibitore di questa fosfodiesterasi in altre patologie abbiamo dei farmaci approvati per esempio in alcune connettivopatie si può utilizzare rituximab che è un anticidiventi abbiamo vabbè tutti i farmaci immunosoppressori e corticosteroide e poi per esempio nella sarcoidosi ci sono delle buone esperienze con l'infliximab o altri farmaci in generale il problema è che il contenimento dell'infiammazione nell'intestiziopatia dipende moltissimo dal tipo di intestiziopatia quindi è difficile pensare a qualcosa che possa essere utilizzato ad ampio spettro su tutta l'intestiziopatia ci chiede il dottor campiotti invece a che punto siamo con la terapia con le interleuchine specifiche utili al tuo monifiammato allora anche lì abbiamo avuto tante esperienze nel covid nel covid abbiamo utilizzato diversi farmaci anche diretti contro l'interleuchina 1 l'interleuchina 6 adesso in questo momento utilizzo in altre patologie non è ancora diciamo raccomandato accettato sicuramente la patologia invece abbiamo l'utilizzo delle dell'interleuchina è l'asma dove abbiamo ormai a disposizione diversi anticorpi monoclonali uno per esempio diretto contro un'interleuchina 5 però è praticamente l'unica l'unica patologia su cui effettivamente ci sono delle evidenze riportate anche in linea guida quindi utilizzo di di vari farmaci biologici come il nepolizumab il lupirumab e così via ok grazie mille Letizia per per i chiarimenti abbiamo delle sicuramente che riguardano la parte trabiantologica e quindi su cui possiamo su cui possiamo riguardo all'ultimo slide del professor Palleschi in ci chiede professore Sabaroni da dice da Novizia riguardo al trapianto quali sono in linea generale i trattamenti e le indagini diagnostiche in preparazione al trapianto vero e proprio in cui credo che sia un discorso abbastanza ampio questo però se puoi fare un breve cenno Alessandro a questa volentieri volentieri certo e sì è una domanda molto ampia allora la valutazione del paziente candidato trapianto è ampissima perché poi è ovvio che va considerato che tutto quello che ho inserito come teoria deve essere reso pratico e quindi dobbiamo avere tutta una batteria di esami che ci consente di valutare le indicazioni e di escludere le controindicazioni per cui virtualmente il paziente candidato o candidabile a trapianto affronta un percorso internamente al policlinico qui al nostro centro trapianti che è gestito ovviamente in stretta collaborazione con i pneumologi perché è tutta una parte preliminare in cui viene effettuata una batteria di valutazioni sierologiche per l'eventuale presenza di infezioni viene effettuato uno screening per escludere la presenza di neoplasie viene effettuato una valutazione funzionale attenta cardiorespiratoria che consenta di valutare appieno la situazione funzionale respiratoria da una parte per vedere se c'è effettivamente un'indicazione al trapianto e dall'altra parte parte cardiologica per vedere quanto poi la problematica respiratoria ha influito sul trapianto oppure stante che probabilmente come puoi immaginare un paziente affetto da patologia cronica ovviamente l'impatto sul cuore ci può essere stato per cui sono pazienti che in ultima analisi per dare un'idea prima di arrivare all'inserimento in lista effettuano una coronarografia e un cateterismo cardiaco destro quindi insomma tutt'altro che può ed è proprio qui che sottolineavo anche la necessità del riferimento precoce perché il riferimento precoce al centro tra pianti con poi la valutazione da parte del team multidisciplinare che è fatto sia dai chirurghi e dai pneumologi che voi vedete qui ma che poi ha tutta una serie di specialisti fisioterapista che valuta la capacità l'endurance la resa fisica di questo paziente che spesso è un paziente che fa poco attività non dico che sono pazienti che stanno sempre fermi perché è una controindicazione al trappianto ma sono pazienti che vanno allenati vanno riabilitati prima del trappianto sono pazienti che affrontano un percorso psicologico con il nostro psicologo estremamente lungo per l'accettazione per la valutazione che sia ben chiaro il percorso a cui stanno andando avanti per cui è veramente un impegno per il paziente per tutti questa valutazione e quindi l'early referral cioè il riferimento precoce al centro trappianto è proprio per dare il tempo sia di valutare appieno la situazione in un momento in cui il paziente è malato ma non deve essere troppo malato torniamo a dire e dall'altra parte il tempo per poter eventualmente aggiustare qualcosa ripeto il paziente che arriva con insufficienza respiratoria che ha un BMI estremamente basso può essere aiutato a riavere a riottenere un BMI che gli consenta di affrontare un percorso chirurgico importante viceversa sul BMI estremamente alto con un percorso di calopolderate fino ad arrivare ci è capitato di avere dei pazienti con delle coronaropatie che insieme ai nostri cardiochirurghi andiamo a come dire gestire insieme o meglio prima del trappianto andando a correggere la coronaropatia o addirittura durante il trappianto unendo le due procedure però lascio magari ecco sì volevo lanciare la palla alla dottoressa Morlacchi che di fatto è una delle pneumologhe che si occupa di tutta la parte del referra e quindi delle valutazioni del paziente pre-trapianto per la messillista ma soprattutto della parte del follow up quindi quello che il trappianto non è solamente l'intervento chirurgico purtroppo l'intervento chirurgico è una parte impegnativa ma una piccola parte rispetto a tutto quello che c'è prima del trappianto e soprattutto il follow up che è parte fondamentale per il buon la buona riuscita a lungo termine del 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 trappianto quindi siccome ci chiede il dottor Caruso appunto una domanda abbastanza puntuale su qual è la nostra percentuale di successo in successo come centro trapiantologico e a quanti anni a questa domanda a cui sicuramente forse Letizia è la persona più giusta a cui risponde che può rispondere mi associo con una domanda che riguarda il rigeletto cronico che è invece uno dei la principale causa di insuccesso a lungo termine del del trapianto e quindi se può anche rispondendo a questa domanda dire quali sono le strategie che cosa c'è oggi che di trattamento che si fa e che può essere fatto per contrastare il rigetto cronico del trapianto di polmone grazie grazie Lorenzo ma allora intanto appunto c'è da dire questo che dopo l'intervento chirurgico c'è una sorveglianza del team nel senso che gli pneumologi insieme ai chirurghi toracici fanno delle visite spirometrie che hanno una cadenza estremamente ravvicinata nel tempo nel primo mese dopo il trapianto il paziente viene in visita una volta alla settimana poi il paziente viene sottoposto a delle broncoscopie delle tach toraci con delle tempistiche molto precise e che non vengono a perdersi nemmeno a grande distanza questo per darvi un'idea il paziente anche a dieci anni dal trapianto una volta ogni tre mesi viene al centro trapianti a fare la visita vi ho parlato di dieci anni questa cosa qua non è scontata noi cinque anni fa non parlavamo di sorveglianza a dieci anni invece oggi siamo in grado di parlare di questo e questo è per rispondere un pochettino al collega qual è la nostra percentuale di successo dipende da come si definisce il successo secondo me il successo è quello che ha mostrato il professor Palleschi prima il paziente che ha mostrato in cima alla montagna non è un paziente che non ha avuto problemi in particolare quel paziente ha un'insufficienza renale ha avuto degli episodi trombotici ed è stato trattato per una micosi polmonare questo è per dirvi che nello stesso paziente abbiamo diverse complicanze questo paziente non ha avuto esperienza di rigetto cronico però il rigetto cronico è un termine ombrello oggi come oggi nel senso che al suo interno sono inserite diverse entità patologiche che hanno anche un impatto diverso poi sulla qualità di vita del paziente perché c'è il paziente che ha un lieve rigetto per essere molto sintetici e quindi magari si è semplicemente instaurata una riduzione della funzione polmonare con una lieve riduzione della spirometria mentre ci sono purtroppo una minoranza di pazienti che va incontro a una patologia polmonare grave con anche fa bisogno dell'ossigeno c'è un modo in cui noi possiamo intervenire secondo me sono due che sono correlati tra di loro la sorveglianza in questo senso è importante cioè se io mi accorgo subito che il paziente ha qualsiasi tipo di problema che può essere una lieve riduzione della spirometria piuttosto che un'anomalia della TAC che fa appunto anche solo per controllo piuttosto che una sintomatologia iniziale per esempio fa fatica a svolgere il suo programma di allenamento ecco da questo punto io parto per condurre degli accertamenti ed eventualmente instaurare delle terapie che possono prevedere una modifica un'automizzazione della terapia immunosoppressiva ma anche il ricorso a delle tecniche innovative per esempio noi stiamo lavorando tanto sulla fotofilesi extracorporea che solo recentemente è stata riconosciuta come un trattamento meritevole anche di un riconoscimento tarifario dalla regione Lombardia per dire anche quanto è importante fare in termini istituzionali per riconoscere la necessità di trattamento per questi pazienti per ottenere risultati a lungo termine e la fotofilesi extracorporea è una tecnica impegnativa per il paziente perché richiede l'accesso all'ospedale in tempistiche molto determinate ma permette di controllare il rigetto anche nelle sue fasi più precoci instaurare precocemente una terapia consente poi di portare il paziente anche a una sopravvivenza più lunga considerate che oggi la sopravvivenza del trapianto per qualsiasi indicazione a 5 anni sfiora il 65-70% e numeri che abbiamo anche nel nostro centro che stiamo anche per fortuna superando in questo momento l'attesa di vita la speranza di vita per un paziente che viene trapiantato supera i 7-8 anni quindi mi rendo conto che sto parlando di numeri ancora piccoli ma secondo me comunque in crescita molto significativa benissimo grazie grazie Letizia credo che siamo arrivati alla alla conclusione passo la parola a professor Nosotti per i final remarks come si dice in utilizzando una lingua anglosassone giornata importante tra l'altro per il paese anglosassoni ringrazio tutti i relatori per la splendida per le interessantissime relazioni professor Nosotti lei le conclusioni grazie me Lorenzo ringrazio tutti i colleghi del Policlinico per le loro relazioni hanno cercato di condensare in pochi minuti un'intera vita di esperienza professionale spero che questo sia stato di aiuto e sia piaciuto ai colleghi numerosi colleghi che sono collegati lascio la parola alla dottoressa Tonelli per chiudere il webinar e per darvi le indicazioni su come rispondere ai questionari grazie a tutti e alla prossima direi che è stata una mattinata ricca di contenuti e spunti per la nostra professione vi ringrazio tutti i presenti e i relatori e per la qualità dei loro interventi che sicuramente hanno arricchito le nostre conoscenze e forse qualche piccola competenza in più per ognuno di noi auspico a nome di tutto il consiglio una futura collaborazione per approfondimenti e nuove tematiche da poter affrontare insieme in future collaborazioni veramente grazie per la vostra disponibilità e la vostra professionalità prima di lasciarvi vorrei dare le ultime indicazioni sulla compilazione del test per la valutazione CM potranno accedere al test che ha seguito per il 90% dell'evento webinar di questa mattina e il test sarà disponibile dalle 17 di oggi sabato 6 maggio fino alle ore 23 e 55 di martedì 9 maggio c'è disponibilità di 5 fino a 3 questionari utili ai fini del rilascio dei crediti e CM e ricordatevi di compilare anche la valutazione sulla qualità percepita e il test sul reclutamento grazie a tutti e buon sabato a tutti grazie 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 grazie